Ciao a tutti e bentornati con un'altra puntata di Wolfenstein E arriviamo arrivati che onestamente non mi ricordo più Eeeh... Cazzo Ehm, scusate Eila Ups, coloro è bello e grosso però Ah Scorciatoia Ah Oh, queste accette sono proprio buggate C'è poco da fare Siamo Oh All'altro ho un pompa C'è il nemico Tic tac C'è l'ora Oh Cazzo Nooo Ho fallito Mi sono fatto scoprire Perché quella accetta maledetta non l'ha ucciso con un colpo Oh, caccia la tubata Ehi, ehi, ehi C'è l'ora Cacchio Preso sotto gamba Qua Aredetti infamoni E fin qua Vediamo Ok Qua ci sta Piano Ma perché fa così Ma che cazzo Ma che cazzo Dei problemi hai Ma che cazzo fa Oh Pagate sta cosa qua Che cazzo fa Oh Roba stupida Insunsa Vabbè Non la comprendo Voi avete capito Che è successo Perché io non l'ho capito Oh Cazzo Oh Bene Cada Cazzo ha 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 Shockhammer Dove dobbiamo Andare adesso Orr 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 Vabbè Andiamo un po' di qua e un po' di là In realtà ci sarebbe molto ad esplorare Lo avete visto che Questi livelli qua sono relativamente ampie Erano due o tre giorni che non le riprendevo in mano Wolfenstein Devo dire che ero Abituato ad altri giochi diciamo Hammer cover Di nuovo il caldo Oh il caldo Capito che dobbiamo Grande Vediamo Mi sa che devo fare in fretta Sapete Aiuto Cerchiamo Il liquido refrigerante Eh ho capito Capito Blasco Ho capito Cazzo hai ragione Che te Esisti Perfetto Distruggi No ma cazzo non è questo qua Dov'è l'altro nemico Maledetto E' tutti qua Perfetto Laser Bene No 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 Devo tenere per molto Mi sono dimenticato Fai pompa 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 Questo o quello Chissà In realtà sono belle entrambi Come armi Però Però Devo scegliere Refrigerante Certo che sti Narzisti qua Hanno fatto proprio N'autonomia Del cazzo Cioè Un minuto e mezzo E basta Ora penso Brucia Brucia Maledetto Infame Vabbè Meglio ricaricarla Caricati C'è proprio L'hai mettuta In fiamme Diventa proprio Rosso Praticamente Interessante Come cosa Cazzo E' entrato Come una papera Eh no Diciamoci La realtà Questa qua E' forte Magari La precisione Non è so forte Però Spare Delle Cannonate E' Una roba Fenomenale Ehi 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 Ok Vado Fuoco E infatti La tuta È Preciantemente Rosso Ok Che cazzo è Sto Cosa qua Ok No Problema Amico Oh Finalmente Granatoffe Ok Nient'altro da prendere Un po' di vita Qua Ma Ce ne facciamo niente Perché tanto cala No Direi Possiamo andare avanti Tanta Tanta vita Troppa Troppa vita Poverino Oh Cazzo Ma Che cazzo Mi ha detto infame Oh Porca vacca Ha ritornato il freddo Cioè il caldo Non me ne era accorto Di questa cosa Merda Sto bruciando vivo Eh ho visto Blasco Me ne sono appena accorto Che E Che eravamo usciti Questo Questo Ormai Mi sono innamorato Di questa Perfetto Devo dire che questo gioco È più longevo Di quello che pensassi Eh Anche perché Presenta anche Le missioni secondari Che avete visto Che avete visto In qualche puntata fa E sono Variate Diciamo Per non dire tante Per essere Uno sparatutto Chiaramente Ah qua ho capito Via E sfondiamo Però Adesso la riprendo È vero Eh bravissimo E qua via Di nuovo Vai E qui lo riprendiamo E avanti Dicendo Che è Preso Un fuoco Incrociato Mi dispiace Vediamo Cosa c'è di qua C'è qualche Collezionabile Magalli Ok Fresco Io non so perché Mi aspetto No Cazzo Esplodi Maledetto Finché ci sono Nemici scarsi In realtà Dovrei Profitarne E fare Qualche talento Qua e là Magari Quelle armi Da lancio Per l'appunto Devo Un attimo Abituarmi A usarle Di più Giusto per la soddisfazione Di portare Sul talento Avanti Tutta Dove ci porta L'ascensore Che bello Sarà anche Un paesaggio Infernale Ma questa vista È impagabile Sì beh Sembrava tipo Le cime di un vulcano Vabbè Non mi importa Di qua O di là No Di qua No Di qua Allora Per cazzo È finita L'accetta Ah eccolo qua E poi il talento È di fare Le uccisioni istantanee O quello con le accette Ah ok Ok ho capito Allora Armi da lancio Oppure Gissioni istantanee Da di fronte Praticamente Bene Vabbè Vabbè Che cazzo Che cazzo è sta roba Che cazzo è sta roba Che cazzo è Che cazzo è Oh vabbè Proviamolo Senza farci troppo male È tipo il bfg di doom Praticamente sto coso Fantastico Disintegrati 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 Pure l'accetta è mea disintegrato In realtà Male Vabbè Ah un cadavere volato di qua Bene 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 E qui c'è ancora caldo Ops Però sono tanti Cavolo E quelli là Sono pure svegli Mi pare Cazzo Troppo lenta Però sparare Troppo lenta Or che carica il colpo Così Non va bene Così Indietro Vabbè Altri Altri Bene Mi conviene Eh Quest'arma qua Mi fa un po' caccare Diciamo Non ne vado particolarmente Matto Piuttosto Preferisco 400 colpi Di questa Anche perché adesso qua Ho in mente una cosa simpatica Che è questa Guardate Ovvero Lanciare Una granatina Dove siete? Ciò che nessuno C'erano quattro persone Prima Vabbè C'erano quattro persone Anche qua Basta Ok Anche perché mi sa che quel talento lì L'abbiamo sviluppato completamente Vediamo Era questo in teoria Sì Bene Cos'è che mi ha dato alla fine? Ottiene munizioni laser e gasolio Durante le manomissioni Vabbè Oh 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 No Uccisioni ambientali Eh già Sto facendo quelle Ecco Beh Non ci sono barilotti qua Peccato Niente barilotti eh Cazzo Ok Al massimo Ehi là Da Fortunato eh Oh cazzo Ho sbagliato arma Ho lanciato una granata Vabbè Bene Ehi Ehi Forse è quello lì Il tipo di cosa Che è sulla testa Bene Adesso Ho capito Va dai Va dai Va dai Cazzo Cazzo Che sfiga Cazzo No 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 Ho sbagliato approccio Ho sbagliato approccio Devo un attimo Devo un attimo calcolarlo Perché qua altrimenti La vita va giù nel giro Di due secondi e mezzo E si che sono pieno eh Poi sto qua Cazzo Ok E non sei morto Va dai Va a cagare Niente oh Purtroppo qua La mira non è Della nostra parte La precisione Scusate Per cui Quello lì Ci ha colpiti Inesorabilmente Avete rotto i coglioni Cazzo Vado dove sei sbucato Guardate che veloce Che è quella Cazzo Di coso Però è anche veloce A morire eh Per fortuna Ho sbagliato L'approccio Cazzo 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 Non è possibile Non è possibile Una cosa del genere Basta Sono stufo Di morire Cazzo Cazzo Un attimo Un attimo Un attimo di relax Forse Forse Carico Era un qualcosa Di strano Di strano Basta 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 Blasco Basta Togliti Niente Non si toglie Non si toglie più Facciamo finta Di niente Cazzo Soltami fuori Cazzo Di stronzo Anche tu Nascosto Guarda Che infami Che sono Belle le piante Bene Cambiamo un attimo Ma dov'è L'altro comandante Scusate Che è così distante Dov'è L'altro comandante Cazzo Qua sotto Nover Forse Facciamo il giro In largo Non so Che è vicinissimo In linea d'aria Qua Però Dall'altra parte Forse Maledetto Infame Comunque A prescindere Da tutto Sì probabilmente È vetro Di qua Adesso E adesso Stringiamo Di qua I fatti Shockhammer Comandante Dov'è Comandante Eccola qui Maledetto Che si nascondeva Dietro i barilotti Ma guarda te Che schifezza Di uomo Bene ragazzi Qui adesso Faremo una pausa Tattica Venuto all'ober Commando Popolazione Occhio di stronzi Dove avete messo i miei codici odi Bastardi Eh già Bene ragazzi Qui terminiamo il gameplay Spero che vi sia piaciuto Anche se sono morto un sacco di volte E Grazie Alla prossima Alla prossima